Si chiama Manta 5, è la prima e-bike acquatica al mondo. È stata prodotta in Nuova Zelanda dall'azienda Manta 5 ed è sbarcata in Italia oggi. A Pesaro, il distributore esclusivo Aquaride parte proprio dalla nostra città per fondare una nuova disciplina sportiva. È una bici facilmente manovrabile in acqua in termini di performance e la resa del idrofil e-bike è paragonabile, pensate a quella di una bicicletta da strada, di una mountain bike. L'Italia è la location ideale per sviluppare questo nuovo modo di fare sport in acqua e Pesaro giocherà un ruolo fondamentale nello sviluppo dell'idrofil e-bike. Funzioni con la batteria elettrica come una bici normale. Come una bici normale, però con meno pericolo di una bici normale perché se si cade, si cade in acqua. Esatto, non vai a fondo, è evidente, collo sulla parte sinistra e resta e posso ricominciare così. Che velocità raggiunge la bicicletta? Il massimo è 22 km per ora, ma per essere in vola, tipo foiling, almeno 10-15. Siamo a posto lati del mondo, ma in realtà abbiamo tantissime cose in comune, soprattutto la nostra affinità con il mare, lo sport, l'innovazione, ci sono tante cose in comune che abbiamo l'Italia e la Nuova Zelanda. Ora più che mai bisogna avere qualcosa che ti dà un po' di speranza, un po' di divertimento e credo che è proprio per questa ragione che potrebbe anche avere molto successo in Italia l'e-bike. Intanto è una presenza che penso da sola testimoni l'importanza e la strategicità di questo progetto che viene presentato nella sua attuazione per la prima volta in Italia, dopo ovviamente il passaggio al Festival di Genova. In questo caso però si presenta il progetto vero e proprio, quindi non solo la possibilità di utilizzare le bike, ma il luogo dove siamo, che è la sede storica del Parco San Bartolo, che come sede amministrativa nel primo di luglio si trasferirà a Firenzola, ma rimarrà comunque un centro di partenza, di progetti ambientali, di progetti legati alle sport aquatici, diventa anche la sede dell'Academy di questo progetto veramente importante che ha bisogno anche di tanta formazione, perché è uno sport, è un modo per vivere il mare, è un modo nel nostro caso qui da Benflaminia per visitare la Falesi in una maniera assolutamente inedita, ma anche un'attività per cui occorre essere formati, quindi qui dentro si insegnerà ad andare e si insegnerà ad insegnare ad andare. Noi siamo partner di Aquaride nel senso buono del termine che attraverso una nostra consociata che è la Convention Bureau ci occupiamo sia della promozione e soprattutto ci occuperemo in futuro di quello che può essere lo sviluppo degli eventi legati all'Aquaride, legati a questo tipo di bicicletta, possono essere eventi sportivi e eventi di promozione turistica e via dicendo, quindi da qualche mese già affianchiamo gli esperti di Aquaride, la proprietà della società che sta lanciando questo tipo di veicolo di mare sul territorio italiano proprio per promuoverlo e per poi fargli avere anche uno sviluppo attraverso la disciplina sportiva.